Invece di riprenderci sempre, perché non ci fai una foto che non c'è una foto di niente caro? Lo senti? Oh, caro, unzia! Qua ci sono grande... Certo, lo so. Che, posso prendere questa? E io, caro! Tua moglie? No, no, questa qua. Ah, ok, me l'ho aperta. Lascia, che lì ci sei, che ti saluta. Ecco, io non manco. Il gelato è buonissimo. Ah, mi stai riprendendo? Spero di no! Ho detto! Sì, spero!